La miglior giovinezza d'Italia, ospite dell'urbe. Al campo Roma, che si estende per oltre 5 km, fra Montesacro, Settebagni e Castel Giubileo, 10.000 tende, divise in 94 gruppi costituenti ognuno un comando federale, ospitano oltre 30.000 giovani fascisti di tutte le province d'Italia al comando del ministro segretario del partito, Sua Eccellenza Sarace. Grazie a tutti. 33 legioni di avanguardisti, un esercito giovanile, perfetto nell'addestramento, impeccabile nelle uniformi, mirabile per disciplina, al comando del sottosegretario per l'educazione nazionale, presidente dell'Opera Balilla, Sua Eccellenza Renato Ricci, occupano altre tre tendopoli di giovinezza, predisposte ai barrioli, nel parco del foro Mussolini e a Montesacro, costituenti il nono campo d'Ux. 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 Grazie.